Grazie a tutti. Grazie a tutti. PD e Movimento 5 Stelle presentano mozione di sfiducia a Toma, anche i dissidenti che chiedono la testa di Marone preparano un documento e minacciano. Dialogo o meglio tornare al voto, le parole del consigliere Di Luce. Fino allo sport, il calcio di Serie D. Il Campobasso lavora sulle conferme di Cogliati e Alessandro. C'è la volontà di chiudere le parole del DS Stefano De Angelis che ha concesso a Teleregione una lunga intervista. Buonasera, ben trovati con la nostra informazione. In apertura l'avete sentito dai titoli. C'è la vertenza Molise-Acque. I lavoratori si dividono. 28 interirali su 50. Chiedono di essere contrattualizzati a tempo determinato. Di fatto accettano le proposte dell'azienda e attaccano i sindacati, tutti particolari nel servizio di apertura. Avertenza Molise-Acque c'è la quadra. Una parte dei lavoratori e l'azienda fanno sintesi. A renderlo noto è il comitato delegato da 23 interinali che durante l'incontro avvenuto nelle scorse ore ha manifestato al presidente di Molise-Acque Giuseppe Santone la necessità di continuare a lavorare e la volontà di essere contrattualizzati anche alle condizioni proposte dall'azienda. Vale a dire con un'assunzione a tempo determinato part-time per 36 mesi con l'impegno da parte di Molise-Acque di avviare un percorso volto alla stabilizzazione e di garantire una sorta di precedenza in caso di assunzione a tempo indeterminato. Il CDA si è dichiarato disponibile a riaprire le trattative con le rappresentanze sindacali per sottoscrivere l'accordo aziendale manifestando la volontà di continuare ad avvalersi delle maestranze. I 23 lavoratori stigmatizzano in maniera forte la scelta di alcuni sindacati di non voler sottoscrivere l'accordo aziendale nonostante più della metà degli interinali 28 su 50 si legge nella nota giunta in redazione abbia già comunicato per iscritto a Molise-Acque di essere favorevole all'assunzione a tempo determinato e alle condizioni previste dall'accordo stesso. Sindacati, recita ancora la nota, che forse dimenticano che i lavoratori si sono ritrovati in poche ore senza lavoro, con figli e famiglie a carico e privi di una fonte di reddito. Ed ora l'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Ci sono buone notizie dall'ultimo bollettino dell'ASREM, quello di questa sera. Ancora zero contagi e un paziente dimesso da malattie infettive. I tamponi processati nelle ultime ore sono 359. Due buone notizie dall'ultimo bollettino ASREM sull'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. Ancora zero contagi, zero positivi su 359 tamponi processati nelle ultime ore. E ancora un paziente dimesso dal reparto di malattie infettive del centro covid del Cardarelli di Campobasso con il numero che scende da 3 a 2. I casi attualmente positivi sono 43. I tamponi processati dall'inizio dell'emergenza 444. 20.247 gli esami effettuati in totale, 41 gli asintomatici a domicilio, 49 i soggetti in isolamento. 515 le visite effettuate dalle USCA, cioè le unità speciali di continuità assistenziale. Il comune con il maggior numero di casi, 107 e Campobasso, seguito da Termoli, 14, Belmonte del Sagno con 7, Porto Cannone, Baranello e Cerce Maggiore con 4, Poggio Sannita, Montagano, Campo Chiaro e Isernia con 2. Sindaci dell'Alto Molise questa mattina in consiglio regionale per l'ospedale Caracciolo. Per noi c'era Valentina Ciorlante, sentiamo il contributo. Il Caracciolo di Agnone diventi finalmente presidio di area disagiata, quindi la regione mette in campo tutte le sue forze per ripristinare servizi tagliati da tempo e fare in modo che molti medici tornino a lavorare in quell'ospedale per garantire il diritto alla salute di un territorio vasto che comprende anche delle zone della provincia di Chieti. Questo in sostanza all'appello rivolto dai sindaci dell'Alto Molise all'intero consiglio regionale. Tanti amministratori con indosso il simbolo della fascia tricolore hanno incontrato gli esponenti dell'Assemblea, il governatore Toma, la Giunta, per mettere sul tavolo una proposta concreta proprio in un momento in cui l'emergenza sanitaria ha evidenziato ancora di più le potenzialità della struttura agnonese. Il consiglio che era in riunione è stato sospeso per questo summit e da subito i sindaci hanno esposto le loro istanze. Tra loro Antonio Conti, primo cittadino di Carovilli, e Anita Di Primio, al vertice dell'amministrazione di Belmonte del Sannio. L'ospedale, così com'è, sta morendo di giorno in giorno. Adesso, oltre a tutte le altre difficoltà che si pongono di ordine economico, di bilancio, eccetera, eccetera, c'è il problema del reperimento dei medici e ho fatto presente anche ai consiglieri che è necessario che l'ospedale di Agnone torni ad essere quello di una volta, cioè attraente, attrattivo per i medici. Altrimenti mi si spiega che cosa verrebbe a fare un giovane medico in corsie pressoché vuote. Abbiamo senz'altro visto che c'è effettivamente una buona determinazione da parte del Consiglio regionale, ma è pur vero che, come ha spiegato bene il Presidente Iorio, tutto deve essere rafforzato dagli accordi di confine. C'è stato detto sia dal Presidente Toma e sia dalla maggioranza come anche dall'opposizione, da Andrea Greco, da tutti quanti, che lotteremo tutti insieme per questo riconoscimento nei fatti, perché tutto sta là. Cioè bisogna cercare di rendere operativo questo intento comune di rendere l'ospedale civile di Agnone come ospedale appunto di area particolarmente disagiata. Il Presidente Toma ha chiarito che all'interno del piano operativo è già presente la voce caracciolo ospedale di area disagiata. Dopodiché gli interventi della consigliera PD Fanelli e dell'esponente dei 5 Stelle Greco per un tema, quello della tutela della sanità pubblica, che peraltro proprio durante l'incontro veniva sbandierato dai manifestanti all'esterno del palazzo, non ha colore politico e che per una volta sembra aver messo d'accordo tutti. Bisogna immediatamente attivarsi per ripristinare la desageri, la medicina a pieno regime, l'ortopedia, l'oculistica. Bisogna fare delle cose e farle da subito, oltre a prevedere del nuovo piano operativo che Agnone rimanga presidio di area disagiata. Però oltre al riconoscimento formale ci deve essere anche la sostanza all'interno dell'ospedale e valorizzare chi tra i professionisti ha intenzione di continuare ad operare ad Agnone e a fornire servizi. Io voglio ringraziare i sindaci di tutta l'area dell'Alto Molise che hanno colto l'appello di tutti dei comitati civici, della politica, a venire oggi in Consiglio regionale perché c'è stato un proficuo momento di incontro con loro che hanno portato naturalmente le doglianze di un territorio sempre più marginale. Un territorio che invece è centrale per la sopravvivenza della stessa regione Molise. Un primo obiettivo è stato centrato all'unanimità. Il Consiglio regionale ha votato una mozione bipartisan a sostegno del mantenimento dello status di presidio di area disagiata dell'ospedale Caracciolo di Agnone. L'atto fa voti affinché tutto ciò venga inserito nel nuovo piano operativo sanitario. Il POS che sta predisponendo la struttura commissariale. In aula questa mattina tutti d'accordo. Maggioranza di centrodestra e minoranze compatte nel definire il percorso da seguire per un'area importante della regione, quella dell'altissimo Molise nella quale il presidio sanitario rappresenta un punto di riferimento anche per parte del territorio dell'Abruzzo. Invece c'è il rischio chiusura per il consultorio di termoli con personale all'osso e tagli di servizi rilevanti ed essenziali. La denuncia è del Consigliere regionale, del Partito Democratico Vittorino Facciolla e delle donne democratiche di termoli. Non è il Covid-19 a porre uno stop a prestazioni e attività della struttura ma l'assenza di psicologi, assistenti sociali, pediatri, infermieri, ginecologi e ostetri che lamentano le donne democratiche. Il territorio di termoli è orfano di un consultorio familiare e a pagarne le conseguenze sono tutti i cittadini. Per Facciolla si tratta dell'ennesima umiliazione per Termoli e per il basso Molise mentre i massimi vertici della sanità molisana perdono tempo in zuffe mediatiche e sgangherate battaglie personali nel silenzio più assordante. Chiude il consultorio il suo commento. Siamo sulla sanità perché questa mattina a Campobasso la protesta di cittadini lotta per la sanità pubblica. In piazza c'erano anche tanti genitori con figli disabili che chiedono solo di essere ascoltati e magari aiutati. Nel servizio vi raccontiamo la storia di Manuel, un dodicenne di Poggio Sannita con tanta voglia di vivere. Siamo come genitori sempre a combattere, fare di fide, denunce sembra che stiamo chiedendo le lemosina per le fisioterapie adeguate che ce le fanno a volte per tre giorni settimanali poi le sospendono per mesi nell'arco della sua vita sono state interrotte addirittura per anni davvero e lui ha bisogno solo di questo chiediamo solo quello, fisioterapia e ausili adeguati. Ultimamente abbiamo dovuto fare una battaglia per una carrozzina 4x4 che gli permettesse di essere autonomo nei nostri paesi di collina, montagna e dopo tre anni, dopo varie promesse nonostante gli specialisti avessero riconosciuto il diritto a questa carrozzina per 20.000 euro di carrozzina la ASREM ce l'ha rifiutata praticamente l'abbiamo dovuto acquistare noi come genitori per non fargli bere la terza estate senza questa carrozzina che ha provato nel 2018 di cui era innamorato perché lui guida le carrozzine elettriche in autonomia e quella carrozzina gli permette di uscire finalmente da solo perché ha 12 anni e 13 e ha questa possibilità quindi quest'anno ci siamo dovuti mettere le mani al portafoglio e comprarlo a noi, arriverà a fine mese e non vediamo l'ora. I genitori che hanno figli disabili protestano con compostezza quasi in silenzio, con tanto orgoglio l'orgoglio di chi tutti i giorni deve lottare per i diritti dei propri figli quello di Manuel, bellissimo 12enne di Poggio Sanità è un caso di mala sanità che lo Stato ha risarcito anche se nessun risarcimento ridarà il sorriso a lui e ai suoi genitori l'ultima battaglia è per una carrozzina 4x4 con cui Manuel, tra qualche giorno, potrà andare al mare è una carrozzina 4x4 che mi permette di andare anche sulla spiaggia quindi sei pronto per andare al mare? sì, sì sofferenze che non si possono capire ma che lo Stato, la Regione e la politica dovrebbero invece lenire in piazza c'è anche un gruppo di genitori di Isernia con figli disabili unica richiesta essere ascoltati l'invito lo rivolgiamo alla classe politica prendete nota e fate qualcosa di concreto noi ci stiamo battendo per i fondi della non autosufficienza che sono dei fondi elargiti dalla Regione per permettere alle famiglie di avere assistenza per i loro figli il problema è questo che questo fondo è stato fatto un calderone vengono messi anziani e giovani e ragazzi disabili e siccome gli anziani hanno più patologie gravi dei ragazzi disabili siccome i fondi sono pochi viene fatta una gradatoria e in questa gradatoria chi ne beneficia sono maggiormente gli anziani anziché i ragazzi disabili noi abbiamo proposto alla Regione di fare due fondi uno per gli anziani e uno per i disabili così tutti rientrano però la Regione è assente non ne vogliono sapere questo è il nostro problema restiamo sulla manifestazione popolare di protesta contro la chiusura dei reparti degli ospedali e la gestione del coronavirus vediamo anche questo contributo alle mie spalle la manifestazione di liberi cittadini in lotta per la sanità pubblica allora ci avviciniamo al corteo sono cittadini che provengono da tutta la Regione da Termoli, da Larino, da Agnone, da Campobasso, da Iserne ci sono anche alcuni rappresentanti politici in particolare del Partito Democratico ma ci sono soprattutto tanti cittadini tanti cittadini che chiedono un cambio di passo una sanità diversa, una sanità di qualità il messaggio è chiaro è quello che volevamo la base, quindi la gente oggi ci sono casalinghe, operai gente che si è presa addirittura abbiamo parlato con tutti una giornata sul posto di lavoro per essere qui significa che sta crescendo la coscienza sulle problematiche il futuro del Santissimo Rosario è quello di un ospedale di confine l'ospedale di confine per definizione va potenziato perché come sempre detto ha la capacità di attrarre pazienti da fuori attrarre pazienti da fuori ti consente non solo di curare bene i molisani e di curare gli altri pazienti ma di far pesare in termini di bilancio quella spesa sanitaria sulle altre regioni questo è il momento di fare le scelte scelte importanti e coraggiose non possiamo più pensare di risanare la nostra sanità con la questione del debito perché il debito continua e i servizi, gli ospedali stanno chiudendo i reparti quindi il problema non è stato il debito sanitario è stata la cattiva gestione politica stiamo combattendo affinché vengano investite delle risorse proprio sul Caracciolo perché il Caracciolo non è solo l'ospedale di Agnone ma è l'ospedale di tutti i paesi che li ruotano attorno noi giovani sogniamo un futuro fatto di speranze realizzabili e quindi se dobbiamo rimanere sul territorio dobbiamo investire sul territorio abbiamo bisogno che la politica regionale osi e investa su di noi investa sui giovani e garantisca un diritto fondamentale che è quello alla salute Ed ora la politica con il Partito Democratico del Movimento 5 Stelle che presentano la mozione di sfiducia al Presidente della Regione Donato Tomo un'azione simile verrà effettuata anche dai dissidenti a parlare ai nostri microfoni il Consigliere regionale Andrea Di Lucente che dice se non ci sarà la possibilità di dialogare sarà meglio tornare al vuoto Di Lucente e i dissidenti chiedono anche la testa dell'assessore esterno Michele Marone La mozione di sfiducia a Toma è pronta ed è stata depositata oggi in Consiglio e quella dei 5 Stelle su questo documento c'è stata anche la convergenza del PD ma alle viste potrebbe esserci un'altra istanza dal medesimo contenuto e la notizia è che a presentarla saranno i dissidenti del centrodestra cioè coloro che da settimane stanno incalzando il Presidente rispetto agli accordi presi che invece sono stati disattesi con la nomina dell'assessore esterno L'incarico a Marone è centrale in questa crisi politica che per ora sembra senza uscita e su cui alcuni paletti verranno messi venerdì quando ci sarà una nuova riunione di maggioranza o meglio quando riprenderanno i lavori dell'incontro sospeso nelle scorse ore a causa del lutto che ha colpito la famiglia Patriciello e Cotugno peraltro a chiedere un passo indietro al Governatore sull'esponente esterno dell'esecutivo in Quota Lega c'è l'unanimità della maggioranza come spiega Andrea Di Lucente Sulla revoca dell'assessore c'è una stessa idea da parte di tutto il Consiglio vogliamo capire anche l'assessore e anche il Presidente cosa ne pensa al riguardo ma sono convinto che con maggior dialogo si possa trovare la soluzione per uscire da questa crisi altrimenti qualora non si riesca ad uscire da questa crisi forse l'unica strada è quella di tornare a votare Toma cederà alle richieste e toglierà l'incarico all'esponente indicato da Salvini difficile è un gesto così eclatante poi c'è la questione del rientro nella Lega di Mena Calenda gesto che andrebbe a rafforzare il carroccio ma che allontanerebbe la consigliera dai dissidenti con cui sta portando avanti le battaglie di questi tempi la politica si sa è liquida gli equilibri labili bisogna attendere ma Di Lucente non le manda a dire e resta fermo sul punto Qualunque cosa succeda l'eventuale mozione di sfiducia che andremo a votare è quella presentata da alcuni consiglieri di maggioranza quindi per adesso posso smentire che verranno votate sicuramente quella dei 5 stelle assolutamente no siamo critici con il presidente lo abbiamo detto più volte non ci siamo tirati indietro chiediamo maggior confronto chiediamo una condivisione delle idee, del programma di quello che si deve fare o che si sarebbe dovuto fare per questa regione chiediamo che vengano rispettati gli accordi che sono stati presi di una maggiore condivisione di tutto e un maggior coinvolgimento di alcuni consiglieri che hanno voglia di lavorare hanno voglia di lavorare per questa regione e per questo territorio allora parliamo della Guardia di Finanza 264esimo anniversario occasione anche per tirare le somme sul bilancio dell'annata appena trascorsa allora sentiamo Cristina Niro 246esimo anniversario dalla fondazione del Corpo della Guardia di Finanza come sempre è il momento anche di tirare le somme di un anno di lavoro che si aggiunge ovviamente a quelli trascorsi e che hanno portato alle celebrazioni ieri in forma ristretta come sempre da qualche tempo nella caserma di Piazza Palatucci a Campobasso dunque dicevamo di bilanci e numeri emerge l'attività in materia di spesa pubblica nell'ambito della quale sono stati segnalati alla magistratura contabile danni per 10 milioni e mezzo di euro il nostro compito è quello di individuare attraverso non attraverso controlli generalizzati ma attraverso sistemi di analisi di rischio cioè individuare elementi attraverso poi la successiva investigazione che siano il rischio di un'attività non quindi un controllo generalizzato in maniera da colpire solo ed esclusivamente dove si annidano anche eventualmente nella pubblica amministrazione i reati che possono configurarsi passando più in generale al settore della tutela della legalità nella pubblica amministrazione sono state denunciate 18 persone per i reati in materia di appalti corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione in questo ambito riveste importanza strategica la collaborazione con l'autorità nazionale anticorruzione su cui delega nel corso del 2019 i reparti delle fiamme gialle hanno effettuato controlli in materia di contrattualistica pubblica e accertamenti nel settore anticorruzione e trasparenza noi vogliamo che l'aspetto della spesa pubblica sia una spesa buona che faccia crescita economica il nostro progresso economico è molto legato all'esaltazione delle qualità imprenditoriali oneste e su questo ci battiamo aggiungo visto che lei mi chiede dei bilanci sicuramente un'attività forte è stata fatta in materia di accertamenti patrimoniali sia in relazione ai sequestri derivanti da reati tributari sia in relazione all'accertamento sulla normativa antimafia sono milioni di euro che sono stati proposti per il sequestro alle autorità e non finisco qui di ringraziare l'attenzione che ci rivolge la considerazione dell'autorità giudiziaria nel perseguire questi reati durante il 2019 con riferimento ai risultati conseguiti in applicazione della normativa antimafia sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 118 persone ed ammonta quasi 5 milioni di euro il valore dei beni immobili immobili aziende quote societarie e disponibilità finanziarie proposti per il sequestro all'autorità giudiziaria anche nei confronti di soggetti connotati da cosiddetta pericolosità economico-finanziaria ovvero coloro che per condotta e tenore di vita debba ritenersi che vivano abitualmente anche in parte con i proventi derivanti da ogni genere di attività delittuosa in particolare di natura tributaria societaria fallimentare e tra i controlli in materia di prestazioni sociali agevolate all'indomani dell'introduzione del reddito di cittadinanza non sono mancati servizi operativi che hanno portato alla denuncia di 12 persone che non avevano diritto al reddito di cittadinanza ma che ne usufruivano nell'ambito dei piani operativi finalizzati alla tutela della regolarità della spesa previdenziale e sanitaria le fiamme gialli hanno portato a termine in totale 14 interventi segnalando all'autorità giudiziaria 10 persone con specifico riguardo al comparto della spesa previdenziale le frodi più consistenti hanno interessato le prestazioni assistenziali assegni sociali pensioni di guerra invalidità civile con 385 mila euro di indebite e percezioni è indagato per omicidio stradale l'uomo che ieri ha investito e ucciso sul cantiere l'imprenditore Stefano Patricello gli esami svolti sul settantenne hanno dato esito negativo migliorano intanto le condizioni del dipendente dell'azienda rimasto ferito nel pomeriggio si sono svolti anche i funerali Nicola De Santis oggi per i venafrani è la giornata del ricordo e del dolore la città è ancora attonita per la morte di Stefano Patricello imprenditore ben voluto da tutti per il suo carattere solare ed estroverso l'uomo è morto ieri mattina mentre lavorava sul cantiere della statale 158 al trentesimo chilometro un'auto impazzita lo ha ucciso sul colpo il conducente un settantenne residente nella valle del Volturno risulta indagato per omicidio stradale intanto tutti i test cui è stato sottoposto sono risultati negativi toccherà ai carabinieri della compagnia di Venafro capire cosa sia realmente accaduto subito dopo il semaforo utilizzato per regolare il traffico all'interno del cantiere la punto improvvisamente ha invaso la corsia contraria al senso di marcia dove erano in corso i lavori ed ha travolto Stefano Patricello ed un suo dipendente prima di terminare la corsa contro il macchinario utilizzato per rimuovere l'asfalto l'urto tra l'utilitario ed il mezzo pesante è stato talmente violento da provocare un incendio nel motore dell'auto il dipendente ferito un uomo di 46 anni ieri sera è stato trasferito in neuromed dall'ospedale veneziale a causa di un importante trauma cranico la prognosi per lui è di 40 giorni Stefano Patricello 61 anni ex calciatore del Venafro molto attivo nella vita sociale cittadina lascia la moglie e tre figli in queste ore sono migliaia i messaggi di cordoglio del mondo istituzionale imprenditoriale politico ma anche della società civile il fratello Aldo tra i primi a raggiungere il luogo della tragedia in un post su facebook ha voluto ringraziare quanti hanno espresso solidarietà alla sua famiglia invitando nel contempo amici e conoscenti ad evitare assembramenti durante il rito funebre per rispettare le norme relativi al distanziamento sociale nello scorso fine settimana di Sernia è stata ritirata dalla stradale una patente per guida in stato di ebrezza ad un uomo residente in provincia sorpreso circolare alla guida di un'autovettura con targa estera con un tasso alcolemico ben superiore al massimo consentito dalla legge per lui una sanzione amministrativa di 544 euro che il trasgressore ha dovuto pagare immediatamente sul posto nonché la sospensione della patente di guida per tre mesi nei giorni precedenti a seguito dei rilievi per un incidente stradale è stato denunciato alla procura della Repubblica di Sernia un giovane anche ieri residente in provincia che è risultato avere un tasso alcolemico quasi 4 volte superiore al massimo consentito inoltre gli esami effettuati presso l'ospedale di Sernia hanno accertato che lo stato di alterazione da uso di sostanze stupefacenti rischia ora la pena dell'arresto fino a un anno un'ammenda fino a 6.000 euro e la sospensione della patente potrà arrivare a due anni il futuro della scuola al centro di un importante incontro che c'è stato ieri pomeriggio a Campobasso incontro seguito per noi da Valentina Ciarlante La data sembra certa il 14 settembre sarà allora che la scuola vivrà la sua nuova fase quella del post emergenza covid se ne parla quando però la crisi sanitaria non è ancora finita se ne parla perché di sicuro non c'è ancora nulla come verrà garantito il distanziamento tra bambini e ragazzi come avverranno le lezioni in aula domande che ancora non hanno risposta e allora la capogruppo del PD in consiglio regionale Micaela Fanelli ha inteso aprire un dibattito convocando nella sala parlamentino di Campobasso in via 24 maggio tutte le parti interessate ufficio scolastico sindacati docenti un confronto utile a mettere sul tavolo delle proposte per la ripresa dell'attività didattica e molise idee che verranno portate all'attenzione del governatore Tome e dell'assessore all'istruzione di Baggio abbiamo una grande ansia di ripresa dell'apprendimento abbiamo desiderio che i nostri figli possano colmare anche un pezzo di quanto non è stato fatto per motivi oggettivi e che anche i servizi connessi fondamentali come i collegamenti in remoto come i trasporti come tutto il mondo collegato all'efficienza della scuola possa essere messo in efficienza per farci partire bene per le direttive per le direttive ufficiali sembra mancare poco la direttrice dell'USR Anna Paola Sabatini ha confermato che tra qualche giorno ci sarà un vertice al ministero intanto ha cercato di sgombrare il campo dai dubbi relativi alla carenza di docenti sicuramente la ricognizione degli spazi è un passaggio fondamentale e poi l'applicazione delle norme di sicurezza a cui siamo stati già abituati ma che sicuramente andranno declinate non solo sul contesto scolastico in generale ma anche sui diversi ordini e gradi in base all'età differenti degli studenti nonostante il decremento demografico il numero dei docenti assegnati è stato lo stesso dell'anno scorso però detto questo dal ministero ci hanno già informati che c'è la previsione e la disponibilità ad aumentare il contingente sia di docenti ma anche di collaboratori scolastici necessariamente in virtù della nuova organizzazione che verrà comunque adottata dal segretario della FLCCGL Pino Lafratta un nuovo appello a fare presto per garantire la tranquillità di alunni famiglie e personale scolastico fra meno di tre mesi inizia la scuola e quindi con tutte queste incognite noi siamo molto molto preoccupati perché per bene che vada qui si parla di ridurre i tempi di lezione si parla di turnazione si parla anche eventualmente di una ripresa della didattica a distanza quindi noi vogliamo capire anche qual è lo stato dell'arte qui in Molise l'abbiamo chiesto già al primo tavolo che si è svolto sugli esami di estate lo chiederemo anche unitariamente nei prossimi incontri noi pensiamo che sia giunto il momento di dare da subito delle risposte perché altrimenti rischiamo di trovarci al primo giorno di scuola con gli stessi dubbi di oggi bene ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo queste le previsioni per mercoledì 24 giugno condizioni anticicloniche garantiranno una fase meteorologica più stabile e generalmente soleggiata sul Molise salvo locali annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sui rilievi queste invece le temperature Campobasso 14-25 Isernia 16-28 Termoli 20-25 Venafro 17-30 è tutto per questa edizione restate con noi tra pochissimo c'è la pagina sportiva c'è una lunga intervista che abbiamo realizzato con il direttore sportivo del Campobasso Stefano De Angelis tra pochissimo La pagina sportiva è il calcio di serie di le parole del direttore sportivo del Campobasso Stefano De Angelis intervenuto in diretta nel TG del 14 De Angelis parla delle potenziali conferme di Cogliati e di Alessandro dei movimenti di mercato della possibilità che il Campobasso l'anno prossimo giochi in Lega Pro sentite allora le sue dichiarazioni Abbiamo dato notizia qualche giorno fa di conferme importanti ma siete concentrati in questo momento su altre conferme di due giocatori di spessore importantissimi per il Campobasso ovvero Cogliati e Alessandro a che punto siamo con queste due trattative direttore? No vabbè l'intenzione della società è quella di mantenere lo zoccolo duro e tra questi sicuramente ci siano sia Danilo che Pietro stiamo parlando con loro c'è la volontà di ambedule parti perciò penso che speriamo di trovare l'accordo il prima possibile la volontà c'è di ambedule parti quando c'è la volontà penso che poi un accordo si trovi per quanto riguarda Musetti direttore con ogni probabilità non sarà ancora in maglia rosso-blu a questo punto serve un nuovo riferimento per la squadra un nuovo centravanti importante su cosa vi state orientando? No adesso dico sinceramente ci stiamo orientando su quegli 8-9 che noi abbiamo intenzione di portarci in tutte e due le categorie perciò non fa differenza se noi speriamo che sia la Lega Pro ci crediamo e siamo magari i primi contatti li abbiamo avuti con loro con quegli ragazzi più giovani o per il resto penso che ci sarà modo e tempo anche perché dobbiamo capire che cosa faremo dai speriamo che ci siano un po' di direttive più chiare diciamo e a proposito di questo lei che notizie ha sulle prossime decisioni per i ripescaggi perché effettivamente ormai da giorni non si brancola un po' nel buio lei che notizie ha? Noi siamo in attesa come tutti del resto penso che non ci sia novità neanche questa settimana speriamo almeno che dicano quali siano le gradatorie e quali magari ci sono i requisiti per poter accedere a un possibile ripescaggio questo ci aspettiamo almeno questo fine settimana per il resto poi sarà dura perché è un momento difficile per noi perché purtroppo no purtroppo la speranza c'è c'è grande ottimismo però dobbiamo essere anche guardare la realtà e dobbiamo avere il piede in due staff come si dice perciò alla fine dobbiamo aspettare ma sicuramente ci toccherà aspettare fino ad agosto non penso che prima venga fuori qualcosa quindi sarà un'attesa lunga anche perché direttore quando si era diffusa la notizia che il Matelica non si sarebbe scritto alla Serie C c'era stato un po' un entusiasmo generale però come dice lei occorre attendere perché poi di fatto parlando con i vertici del sudalizio marchigiano non è così anche lì la situazione è tutta in divenire quindi bisogna solo aspettare sì infatti è tutto prematuro certo avere la certezza come l'anno loro che faranno la categoria la Lega l'anno prossimo magari possono già iniziare a programmare al di là delle difficoltà che ci sono oggettive noi del resto avendo la speranza di riuscirci magari anche se non dalla porta principale da quella secondaria diciamo siamo costretti a stare in momento d'attesa anche perché facciamo le cose con giuri se dovesse essere magari dovremmo ripartire dalla D cambiano anche le regole cambiano gli under perciò è un po' tutto particolare in questo momento non è semplice però siamo l'importante è avere la consapevolezza e la chiarezza di quello che si vuole fare poi alla fine vediamo senta direttore ma a questo punto è anche difficile ipotizzare i tempi dell'inizio della preparazione perché comunque bisognerà cominciare anche se la notizia dell'eventuale ripescaggio arriverà a metà agosto quindi voi che calendario avete ipotizzato per la ripresa degli allenamenti della preparazione noi speriamo speriamo che sia possibile anche con con i protocolli che ci sono sia possibile ripartire ripartire almeno fine luglio noi prima ripartiamo meglio è perché siamo fermi da 4 mesi da 5 mesi perciò rimettere in moto una macchina non è semplice perciò noi appena potremo partire sicuramente al di là dell'inizio del campionato dovremmo rimetterci in moto questo è sicuro in ogni caso direttore per chiudere anche in caso di serie D cosa che naturalmente i tifosi non sperano perché sperano nel salto di categoria già da quest'anno sicuramente gli obiettivi saranno quelli di un campionato di assoluto vertice no? penso che a campo basso non si possa fare altrimenti chiunque venga sia il giocatore che dello staff abbia un obiettivo quello di cercare di fare un campionato da protagonisti poi ci si può riuscire o meno però l'intenzione sarà sicuramente quella poi se noi abbiamo lasciato si è fermato sul più bello come diciamo eravamo secondi perciò se dobbiamo ripartire da lì sicuramente l'obiettivo sarà quello di arrivare stavolta fino in fondo però io ripeto speriamo tutti quanti che faremo di tutto la società sta lavorando per qualcosa di importante perciò siamo in attesa nel caso in cui non ce lo permetteranno sicuramente dovremmo rimborcarci le maniche e cercare di ripartire meglio di prima l'ultimissima cosa se me la puoi svelare questa è una curiosità in genere è lei che chiama i calciatori per sondare un po' il terreno acquisti ma c'è qualche calciatore che ha chiamato lei perché vorrebbe fortemente venire a Campobasso ce ne sono penso che questa è la dimostrazione del lavoro che ha fatto la società in questi due anni perché non è che chiamano a me perché io perché lavoro per il Campobasso però sicuramente sono più procuratori più gli agenti che chiamano propongono perché Campobasso è una piazza che adesso è come posso dire è ambita è ambita è una piazza ambita perciò soprattutto se dovessimo fare una categoria diversa perciò penso che il Campobasso abbia racquistato il rispetto che merita e questo sicuramente per noi è già un punto di vantaggio questo il comitato regionale abruzzese della FIGC ha definito in un comunicato i verdetti dei tornei organizzati tra questi l'eccellenza femminile che ha visto salire in C nazionale l'undici del Ripa Limosani le ragazze di mister Silverio Bottone hanno dato vita ad una stagione che le ha viste sempre a segno in ogni gara si svolgerà domenica a Termoli il Vela Day l'iniziativa partita dalla Federazione Nazionale fatta propria dal circolo cittadino Cariello consentirà di avvicinare alle diverse discipline di settore anche i profani per scoprire le peculiarità del mare aperto e chiudiamo parlando della nuova tappa in Serie A per il pivot Campobassano nell'ultima stagione al comprensorio medio basento Umberto Caruso il giocatore ex tra gli altri di Sernia Calciacinque e Chaminade sarà uno dei cardini della formazione campana dell'Eboli bene è tutto con la pagina sportiva grazie per aver scelto la nostra informazione arrivederci grazie